Arriba, arriva! Sempre fuori, a volte, a volte, a volte che ti fanno ballare i piedi che vivono i piedi che vanno a fare i piedi che vanno a camere, 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 tutta la notte passate a trappogli e bicchieri il tecnico dell'unici come un decreto speciale non ci dimentichiamo il profitario e le locali guarda roba e gli avventi della polizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via, già che ci siamo godendo vorrei fare un saluto pure amicizie, soprattutto grazie a voi che riempite la pista perché grazie a voi ha dato un contributo la musica del DJ è stata solo un aiuto che figata di serata 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 il nostro maestro Ivan Giordano incredibile applausi da tutto il borghetto anche Giovanotti si stanno applaudendo non dovrebbero mai finire e buonanotte a tutti ciao Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente Se vi metto un altro disco, mi staccano al corrente No! Che figata di serata 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 Allora, per rivedere alcune di queste immagini della serata Anche del nostro maestro Ivan Giordano Sarebbe gladi di andare sul sito www.aliceto.alternista.org Chiaramente a fine mese Il tempo di andare a casa e abbonare tutte le immagini Di questo lavoro qui al banchetto Marina di Siva di Cosenza, Italia E ci trova anche in esibizione il nostro amico Roberto Applausi!